Buongiorno, sono il dottor Fabio Vaia, sono un medico d'ontoiatra, sono laureato all'Università degli Studi di Milano e esercito la mia professione presso il mio studio a Milano. Il mio percorso è iniziato quando avevo 14 anni, dove ho studiato per diventare odontotecnico e pomeriggio lavoravo presso un laboratorio con un annesso studio dentistico. Da lì ho cominciato il mio innamoramento per la professione e ho proseguito gli studi studiando odontoiatria all'Università degli Studi di Milano. Ho scelto di diventare medico perché, come ho detto prima, mi sono innamorato di questa professione. Mi sembra di poter dare un sollievo al dolore delle persone e di migliorare la loro vita qualitativa. Il rapporto con i pazienti cerco di essere molto cordiale perché capisco che quando entrano in un studio dentistico hanno molta paura, soprattutto della mia professione, e allora a volte i pazienti non si siedono neanche sulla poltrona e io cerco di creare quella situazione di benessere nei loro confronti. Insieme a me c'è il mio staff, la segretaria, l'assistente, l'igienista, utilizzando apparecatture tecnologiche all'avanguardia, dando ai miei pazienti le migliori cure dentistiche necessarie. Vi aspetto a Milano presso mio studio per valutare insieme quale sia la migliore cura idonea per voi.